Un omicidio premeditato di natura appassionale è stato quello consumato sabato scorso nei confronti di Antonio Barbieri a Rossano Corigliano. Un omicidio avvenuto sotto gli occhi di numerosi presenti o mertosi, come ha dichiarato lo stesso procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla. C'erano diverse persone presenti, da chi non ha visto praticamente nulla, da chi diceva che era ubriaco e non ricordava nulla, e a chi invece era presente ha reso dichiarazioni totalmente infondate rispetto a quella che era la realtà dei fatti. Al momento due le persone finite in carcere grazie al lavoro certosino e tempestivo eseguito dagli uomini della Polizia di Stato guidati dal Saro, Cristian Filadoro, l'esecutore materiale, e Vincenzo Fornataro, complice dell'omicida. E' stata organizzata questa azione punitiva, non solo con la predisposizione dei mezzi, dell'arma, eccetera, però è fortemente voluta anche nei tempi di arrivo sul posto, perché la vittima stava andando via, quindi probabilmente non l'avrebbero più beccato. Un omicidio risolto in poco tempo a Stattonino Facciolla, che se si va ad aggiungere ad altri casi, rappresenta un importante risultato che la procura di Castrovillari sta facendo registrare nei confronti di un territorio forse, forse, che risulta essere più complesso della provincia di Cosenza. E' quello che stiamo cercando di fare ogni giorno, lo stiamo facendo ormai da quando io sono alla guida di quell'ufficio, e penso che i risultati si stanno vedendo un po' in lungo e in largo, soprattutto in termini anche di sentenze. Per fortuna non abbiamo avuto, quando arrestiamo le persone rimangono dentro, quindi abbiamo un indice di scarcerazione assolutamente limitato e ridotto rispetto alla situazione generale delle misure cautelari, quindi vuol dire che si lavora bene nella fase delle indagini e poi si arriva anche ai risultati che sono le sentenze. Gli omicidi che stiamo risolvendo si stanno chiudendo tutti, o in abbreviato, o addirittura con i processi di primo grado che attessano la responsabilità penale. Quindi questo è un motivo certamente di soddisfazione, non solo per me, ma per i cittadini onesti di quel territorio. E' una grande parte buona di quella terra. Vi assicuro che la maggior parte è la parte migliore. Quindi la parte peggiore è quella che si cela dietro i gravi eventi, che sono quelli che richiamano l'attenzione, quindi l'attendato mafioso, l'omicidio mafioso, e perché quelli distolgono evidentemente l'attenzione. Forse sul territorio adesso dà fastidio l'azione del mio ufficio, comincia a dare fastidio. Quindi ci sono diversi segnali, per la verità non da oggi, che sono stati oggetti di segnalazione a chi di dovere nei tempi passati. E questo probabilmente non va bene a chi, che è la minima parte, che è presente su quel territorio. Ma noi ci siamo, ci saremo, assicuro che faremo la nostra azione come abbiamo dimostrato in questi giorni.